La musica neomelodica, espressione che racchiude un fenomeno di costume sempre più ampio. Pagine di vita quotidiana, rappresentate con sentimento, fonte preziosa per conoscere luoghi, sentimenti, stili di vita e mode. Un genere musicale popolare e diffuso, riproposto ogni notte attraverso video musicali con gli interpreti più famosi di ieri ed oggi. Le ali di Napoli, dal passato ai giorni nostri, da mezzanotte alle 6, tutti i giorni su Telecittà.